Eccoci qua! Questo è da documentare. L'altro giorno, precisamente domenica, ero tranquillamente sul mio divano a giocare con la mia PS Vita. Mi aggiunge un ragazzo e mi fa Ma tu sei Dottor Cid? Sei Dottor Cid quello di Youtube? Stentavo a credo, ci ho detto qualcuno guarda i miei video. E' esattamente questo ragazzo qui, Pingo016. E io sto facendo questo video soltanto per lui. Anzi, intanto lo saluto e lo ringrazio della considerazione, visto che non mi se caga nessuno. E mi faccio una bella partita a Call of Duty per PS Vita. Allora, ho lasciato stai video perché tanto purtroppo non ho tempo. Allora, lavoro, ragazza, impegni, non riesco a registrarli come se deve, non ho una scheda d'acquisizione come se deve. E di conseguenza, come avete visto nei precedenti video, ah, eh, non l'avete visti perché ho tipo 30 visualizzazioni. Le cose fanno schifo, lo ammetto. Poi l'idea di Manta, il lavoro che c'è dietro per fare la voce di Manta, è veramente in dita al culo. Quindi, mo ogni tanto, quando mi va, cagherò un po' di video. Proprio così, sì sì. Il mio linguaggio è scurrile. E niente, mo mi faccio una partita. E niente. E questo è quello che volevo dire. Ho fatto un po' di promos, ho fatto dei video su un torneo da calcetto per un amico, per lo stronzo. Ah, con l'occasione lo saluto. Ciao BQ. Così sarai contento che stai nei video miei. Tanto mi prendi sempre in giro. Dici, ma la vuoi? Fa finita. Tanto caricherò pure quello. Mi commenta mentre sto a giocare col Taxis. E niente, ho lasciato un po' di titoli. Ovviamente Tomb Raider l'ho finito. L'ho finito all'85%. All'85%. Un bel gioco. Square Enix, come al solito, Non sbaglia. Sbaglia solo sui Final Fantasy ultimamente. Tra le cose che fanno rire. E niente. Si fanno qua. Si fanno una partirella. Fanno passato. Ecco, ci sono già passati tre minuti. Poi che c'era? Boh. Ah. Lo stronzo dell'amico mio mi ha dato Bioshock Infinity. Lui ha detto che è una merda. Però io lo voglio provare. Voglio proprio vedere. Se è bello. Su Multiplier c'è scritto È un gioco che rimarrà nella storia. È un gioco che... Se ci giochi non te lo dimenticherai. Voglio proprio te. Stasera lo provi. Ovviamente non lo so se lo registro. Anzi, lo registro se vale la pena. Sul computer sto sempre a giocare a World Z. Era un gioco che è merda. Sto a fare i giochi arcade tipo... Sto a fare il gioco arcade Limbo. Che mi ha acchiappato. Non è niente che è de grafica. Però devo dire che c'ha certi enigmi che... Oggi sono le confermate. Che fanno... Vabbè, mi sono rotto il cazzo di parla. Giocamo. Famo se sta partita. Pertanto se no tra un po' devo andare a cena. A contene. Highlander. Mazzolo. Io ho dato la cagnata. Ti ho visto pure il sangue. Oh, mi ha fregato la grande questo. Eh, mi ha dato la piccola la cagnata. Vabbè. Un paio di mine. Vediamo un po'. C'è stato morto. Non c'ho capito niente. Ammazzo. Ho fatto saltare per aria. E' cala. Cosa vuol'è? La cosa brutta è che... Non si può giocare mentre si registra. Cioè, non ne la fai. A parte che non ti godi... Non ti godi il gioco. Sto scomodo. E vabbè. Ma proprio non... Cioè, non ne la fai a giocare così. Infatti, io direi. Chi registra, fa giochi? Cioè, sarà tutto il giorno a registrare una partita perfetta. Io dopo la carico una partita... Anzi no. Non sa che prima... Uccisione confermata. Uccisione confermata. Ecco. Ce l'ho una partita dove ho fatto 35 uccisioni, 10 morti. Però il problema è che... Non stava a registrare. Sono venuto da corsa... Uccisione confermata. A registrare. Ah, mi ha fregato questo. Posso star così? No, non c'è una vita. Se... Ma voglio lanciare sta caramella. Ammazza. Non so manco se sta... Se sto registrando bene o meno. Se sto registrando bene o meno. Ma hanno fregato. Do sta così? Ah, stavano qua dietro. Se rilascia a fare una partita come vedete. Ah... Te ricaricavo qui. Sfortuna. Vabbè. No, 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 vabbè. Sfortuna. Sfortuna. Lui dall'al di là. Ammazza. Oh, 20-19, vabbè. Quello 22-20. Vabbè, io saluto. La partita, vabbè, non è andata male. L'hanno perso, però non è andata male. Bella. Oh. E' andata male. Sembra. La partita. Grazie a tutti